Il 21 febbraio 1916 è la data di inizio della battaglia di Verdun, certamente la più sanguinosa e la più drammatica di quelle che si svolsero sul fronte occidentale e che videro contrapposti francesi e inglesi da un lato e tedeschi dall'altro. L'offensiva tedesca iniziale era stata travolgente e violando la neutralità del Belgio e del Lussemburgo, i tedeschi si erano spinti fino sul fiume Marna dove la loro avanzata si era arrestata. A quel punto la guerra si trasformò in una guerra di posizione, non più in una guerra di movimento e il fronte veniva ogni tanto rotto delle offensive dell'uno e dell'altra parte che cercavano di violare la staticità del fronte e quindi sbaragliare le truppe nemiche. Verdun fu questo, fu l'ultimo tentativo delle truppe tedesche di sfondare le difese francesi. Verdun era un caposaldo strategico, era un nodo ferroviario, era molto importante nel sistema difensivo francese. Ma come dire, la battaglia divampò per mesi, si concluse soltanto mesi dopo nel luglio-agosto del 1916 e vide coinvolti due milioni di soldati e alla fine si contarono un milione di morti. Sono cifre impressionanti che restituiscono però la realtà ultima della prima guerra mondiale, fu la prima guerra di massa della storia, guerra di massa per i soldati impiegati, guerra di massa per i morti che si contarono. Il difensore estreno di Verdun fu il maresciallo Petain, fu allora generale Petain che riuscì a organizzare la difesa in maniera tale da sbaragliare le truppe tedesche. Nel 1940 a Petain toccò di firmare la resa contro l'offensiva tedesca, fu un'umiliazione che il vecchio maresciallo si portò dietro per tutta la vita. Il giorno e la storia Contattare il nostro corso dell'ispongo Grazie a tutti.